Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo vlog, io sono Francesco Magano e oggi siamo in questo nuovo vlog, due volte, ok. Madonna sta mano. Primo vorrei augurarvi buon Natale a tutti e dirvi che abbiamo rimodernato l'albero. Ora non è solo del Napoli ma è un misto schifoso. Questo qui è il pensiero che ho fatto al catechismo, che manco si mantiene, che però visto che la mia telecamera è scema, lo è già al contrario. Fischietti, giallo mio, rosso saverio e Nutella. E questa palla. Chi ha l'abitudine di mettere i regali sotto l'albero come me, lo scrive qui sotto nei commenti. Perché infatti guardate cosa c'è qui sotto. Aspetta, ho pensato, questo qui me l'hanno dato a scuola perché ormai tutti i miei compagni rosicano, perché a tutti hanno dato il babbo Natale di cioccolato al latte, a me hanno dato il pupazzo di neve di cioccolato bianco. Poi nostra cugina ci ha dato questi babbo Natale di cioccolato, praticamente risorse di cioccolato. E questo è un regalo a sorpresa perché volevo annunciarvi anche che il 25 dicembre scarteremo i regali che ci hanno fatto. Perché abbiamo messo tutto l'albero, vediamo che cazzo vuoi. Guarda che vista. Wow, una vista del come cazzo hai fatto. Ho fatto un sacco di piani. Tu sei un pirla. Ragazzi, sei una gru, eh. Ho pianto del calazzo. Questo è quello ragazzi, rendetevi conto che è un paracadutismo di GTA. Saverlo c'era salito, solo che concretino è caduto. Un'ultima cosa che volevo annunciare ai miei compagni di scuola che guardano i miei video. Avete presente l'album dei calciatori? 2016-2017 è già uscito. Eccolo qui. Ora si legge al contrario, però se riuscite a leggere il contrariese come me, leggerete. 2016-2017. E poi, se non ci credete, vi sto fregando, guardate l'interno, è tutto cambiato. Soprattutto una cosa che ora devo far rosicare tutti. Guardate il Napoli, compagni che mi guardano. Nilan. Napoli. Alle prime bustine, Maximovic, Kyrgyz e Giaccherini. Io mo' mi devo uscire Gabbiatini, perché io ci ho salvato le palle. calciandone una in porta, in un rigore. Rendetevi conto che se non avevamo quel rigore, quella partita era... e saverio ce l'ha fatta, gente! Ti butta te c'è te, ti, ti... E io apro subito, ragazzi, il paracadute così. Perché praticamente qui dove c'è entrare un bersaglio, e quindi... Eh, ragazzi, io faccio sempre così. Ho imparato, è la prima volta che li ho fatti. Io aspettavo un po'. Non hai imparato niente, ti ho detto io che all'inizio devi aprire il paracadute. Ma che dici? Popo, popo. Paperella. Zitto. Camioncino. Ciamoncino. Ciamoncino per il lavoro. Quanta... 200 dollari. Quanto cioccolare? Anna. Comunque. Mi scuso se in questi giorni non sono usciti video. Però... Il mio telefono si era rotto. Quindi, oggi, volevo fare un gameplay. Un secondo che mi metto a sfogliare. Occa. Occa. Guardate cosa posso prendere con questo catalogo qui dei punti. Allora, guardate. 90, 290, 450, no. No, 90, no. 190, non mi piaccia. 290. 490, c'è il pallone ufficiale della serie team. Oppure la maglia della mia squadra. Oppure il super regalo. 290, 290, 290, no. 290, 290, no. 290, no. No, il faccio lo studio di Andrea adesso. Prendo il tablet. Comunque, per chi non lo sapesse, ho caricato... Cioè, si sta caricando un video di Lifehacks per PC e computer. Sono tre. Quando abbiamo finito su GTA l'autobaliena... Sì, ve la mostreremo. Sì. In un giorno 6 da 50. Sì, 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 va bene. Sì, sì, va bene. Comunque, vi vorrei suggerire questa applicazione. Che si chiama OneFootball. Praticamente, voi la scaricate... Siete appassionati di calcio come me, ovviamente, perché... Va bene, voi la scaricate... Voi selezionate la vostra squadra preferita. In questo caso io ho messo Napoli. E proprio vi escono tutte le singole informazioni, ogni singolo passo della vostra squadra. Magari se lo metto... Magari qui si legge dritto. Ovviamente credo di no. Cioè, no, in realtà il mio tablet è scarico. E sta al 24%. Quindi... Io direi che il vlog può finire qui. Forse dopo faremo una apertura speciale delle bustine. Quindi noi ci vediamo. Grazie. Grazie.